Buongiorno, vediamo oggi cosa ci dice l'oroscopo. Arriete, oggi siate particolarmente concreti e attenti a non farvi attrarre da sogni che vi si presenteranno in abbondanza. Buone prospettive per la mattinata di realizzare piccole cose che però si dimostreranno fondamentali per il pomeriggio e la serata. Sappiate decidere con prudenza sull'amore, un errore commesso oggi sarebbe fatale. Cancro, investimenti finanziari, mutui, prestiti e spese non ti converranno. Leone, oggi bussare al cuore di un vecchio amico vi sembrerà l'unica cosa da fare, in effetti troverete molta comprensione per il vostro problema ma poco aiuto. Vergine, nelle cose di cuore oggi avrete il favore di Venere e di un Giove che vi farà sembrare oltremodo luminosi e raggianti. Bilancia, liberatevi e presto di una situazione ingombrante anche a costo di dover decimare le vostre amicizie. Scorpione, prendete tutto con filosofia e con un sorriso, disarmerà i vostri nemici. Sagittario, oggi guardatevi particolarmente dei falsi amici, sarebbe bene per voi tenerle distanza. Capricorno, troppa emotività, evita le decisioni importanti. Acquario, piacerai molto, riceverai complimenti e potresti anche avere una dichiarazione d'amore. Pesci, oggi potrebbe esserci qualche notizia di cui ormai avevate perso le speranze. questo è tutto, a domani con il prossimo appuntamento dell'oroscopo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.